Ma io vorrei sapere solo una cosa, prima di scendere, ma la mamma ti dice qualcosa? Sì, Latios... Latios, Latias. No. Il biglietto nave? Per la torre... Momento, momento, momento. Ci sono due porti, Artepoli e Florteverde. Momento, quando tutto sembrava finito, non è ancora finito, perché... Andiamo a vedere che cazzo è sta roba. Purania, Tecnopoli, Tempestia... Porto Artepoli, vai. Questo va bene. No, aspetta. Ah, sì, 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 sì. Per salviamo, per evitare quei bug. Ok. Sinceramente non mi ricordavo... Ma no, più che altro vuoi sapere dove ti porta sta roba? E soprattutto dove cazzo è sto... Questa è la nave. Eh. Ah, questi bug! Eh, no, non si prende da qua la nave. La nave si prende da dentro. Allora c'è un porto, teoricamente. Vai sulla mancina, ma... Questo? No, questo è il museo. E allora è l'altro, dov'è? Questo. Ecco. Cazzo, io ce l'ho il biglietto. Ah, ah, ah. Fammi vedere. Ah, la torrelotta. Vabbè, andiamo alla torre. Chiudiamo qui. Oddio mio. Che cazzo avete combinato? Cos'è sta roba? No! Che cazzo è questo? Ma... Oddio. Ma... Post storia! Vabbè, entriamo nella torrelotta. Aspetta, vabbè, questo no. Ah, c'è il professore. Parlo un attimo con lui. Sì, 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 ma... Perché noi... Si pensava che era tutto finito, invece. Pare che ci abbia dato il... Pokédex. Sì, sì, no, ma io vorrei sapere cosa c'è qui. Che cazzo è? Sì, ragazzi, c'è un... Ecco! Come si arrivava a questa città. A Brunifoglia. Quella che dovrebbe essere Brunifoglia. Vedi che non c'è. Ma... Ma che cazzo? Ma allora io direi di concludere. Io direi... Sì, anche perché non lo voglio, di arrivare fino a là. No, no, io in realtà lo dicevo l'esatto contrario. Di concludere arrivando nella nuova città. Per vedere cosa c'è. Vabbè, battiamo questi. Tanto è che qua la gente è forte. Eh, post lega, per forza. E noi abbiamo sempre il Pokémon sbagliato. Vai, l'allana. Sbagliato, vabbè. Diciamo. Certo che sì. Tanto sono curioso di vedere... Sono Mona, proprio dentro sono Mona. Ha uno schermo. Che si trova anche in realtà nel... Sì, è straordinariamente coerente. Non ti si vede, eh. Look at this streak. C'era il bambino nascosto. Eh... Eh sì. Modesta valle. Che? È modesta valle. È perché è modesta, non esageriamo, non è tanto esager... C'è qualcosa di importante da queste parti. Serfa. Trollalo così. Mi ha trovato a Mary. Un Mary l'ha al 60, ragazzi. Ma... No. Cioè... Io sarei molto curioso di fare una cosa... Di uscire dall'altra parte delle cascate meteore. Secondo te cosa succede? Ma perché? Noi siamo già stati obiettivamente alle cascate meteore. No. Magari hanno piazzato un leggendario, oppure c'è un combattimento con... Ma porca puttana. C'ha anche... No, questo sarà tutto velocizzato, ma devo farlo. Non mi interessa. No, perché è velocizzato? Non lo so, dipende dal tempo, quanto ci mettiamo. Oh, come... Stai saltando tutti bene. La grotta dorata. Che non è appunto cascate meteore, come immaginavamo. Vai... No, no. Prendi la parte... A ritrovare. Vai, no, non dall'altra parte. Io volevo scendere di qua. Di là che c'è arrivata Rugipoli, eh. Sì, ma io voglio andare a vedere se c'è un leggendario da qualche parte. Vuoi andare a vedere un cazzo di leggendario? Ah, ma nell'acqua, dici? Nella cascata, per precisare. Samarota è ballest di Pokémon. Numacon è rebellente. Che non ci abbiamo. No, no, no. Sono curioso. Oh mio Dio, cosa sei tu? Bug, bug, bug. Fuga, fuga, fuga. Catturiamo i bug. No, via. Ce la farai piano piano, eh. Eh, ci va a tempo, eh. Certo anche tu se sei... Non è facile. Oh. Eh, eh. 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 Non è che questa grotta dorata è solo leggendaria. Mi sta venendo in mente. Ok, dici sono Latios e Latias. Puoi guardare che ci sono dei posti possibili, tattici, apposta per piazzare leggendari. tipo potremmo andare qua sotto dove se non ricordo male o arriviamo sei sicuro? cazzo si torno indietro anche perchè non abbiamo c'è un selfie lì con non abbiamo i mezzi per catturarli obiettivamente in questo momento a meno che ora che li tocchi non fuggano e se li mandano per i cazzi loro per la regione anche perchè io non ho voglia oh mio dio tu che cosa sei qui facciamo una cosa bella salviamo e poi resettiamo Mewtwo oscuro è Mew è Mewtwo normale ma che cazzo ma è illuso io pensavo fosse tipo oscuro avesse qualcosa di bello invece è Mewtwo normalissimo va addormentalo ma stiamo facendo casissimo sta cosa la sua divinazione quanto è potente ultrabone si poi resettano non me lo frego un cazzo di Mewtwo in questo momento si si ma era solo per dai resetta non andiamo a questa serie resetta 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 non lo prenderemo mai ah Mewtwo e di nuovo qui c'è anche Mewtwo così a cazzo visto ci siamo detto ci ha piazzato tutti leggendari ma dimmi te vabbè ce ne sono altri no 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 si bravissimo ora sono curioso di andare a vedere nel grottino dove si trova normalmente Bagon ce ne sono altri tre ci ha piazzato qualcuno ci sarà un party un party leggendario come si suol dire ma vengo ecco ecco alla perché sono tutti moltri shiny zapdos shiny ma sei sicuro che siano shiny no sono normali come Mewtwo no no nel senso sei sicuro che questo sia il loro colore da shiny perché io non no non è questo il colore da shiny infatti sono fatti cazzo come Mewtwo prima si scelte molto casuali in realtà si cosa c'è non le comprendo comunque e poi vediamo se ce ne sono altri boh qua no qua si teoricamente a meno che non ci sia la zona quella dove dove teoricamente no aspetta però non c'è la zona dove vai a sfidare Rocco teoricamente o si non lo so ma il fatto adesso andiamo a vedere voglio vedere veramente se si arriva a Ferruggi questo è un mio no voglio vedere prima se c'è il tunnel con Rocco perché se c'è il tunnel con Rocco sicuramente avrà piazza d'oltre i leggendari qua non so ma magari non c'è perché sono in smeraldo non mi ricordo no qui ci sono già stato aspetta porca trota eh si si da lì volevo può darsi che non ci sia indagheremo ad ogni modo si volevo veramente questa grotta dell'incredibile adesso voglio vedere dai se sei arrivato magari ce ne sono anche nella discesa vai a sapere si può essere si no forse pare di no tutto tranquillo adesso esci e qua c'è la radura solo con i leggendari voglio proprio vedere dove spuntiamo che cazzo nick come va come te la passi c'è qualcosa che non va questa nebbia mi fa sentire felice io sono psicologicamente pronto per un ultimo a caso perchè è bello e noi non siamo neanche preparati fisicamente perché abbiamo in pochi momenti ma porca troia ci pensa la giocata ma si jero che ora vero sui cunno bastardo infame iniesta rossi che ma tu no lo specchio velo di maria mamma canto a meno che eccolo ragione ora non so cosa fare a rivitalizzare insieme a chiacchia vabbè ci sta non lo sapevamo cioè che c'era e se lo veramente auguro il carico star mi sarà il nostro scudo ah the wall bonera oh mio dio non nominare mai sai cosa farei io in questo momento se siamo più veloci io vabbè adesso attaccalo con il comitolo cuomo e poi ci metterei un bel parassi seme che da parassi seme non si esce cambio no 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 fondo muore ivra bene parassi seme se ce la facciamo perfettamente ora magari tiragli una botta con no 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 non fallo morire con stramontante e ora uccidilo perfetto spero che non abbia anche gli altri salamence salamence di nuovo jerome si che se la caverà egregiamente con caduta massima nel caso poi se fossimo in difficoltà c'è anche esplosione si la difficoltà a laxrei 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 io farei una ricarica totale se ce l'hai bravissimo vai 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 uno pugno non ha un pugno ed è pure brutto colpo ehm virtuazione non può fare di nuovo vai vai terremoto che difesa ci tento non ce la farei mai e invece chi era? chi era? non lo so di maria ehm drago danza sì secondo me secondo me non ha i mezzi per colpirti in modo visto ah cazzo si che c'è lì il drago danza ancora una volta intanto poi dopo voliamo e si confonde da solo volo avrà il veleno punto ah vabbè charizard cambia ah è morto fa un culo eh iniesta iniesta che se la caverà anche lui egregiamente e abbiamo vinto anche questa sfida sì a caso ma sbaglio quello era un suicum ma sei coglione ah no penso che lo dicesse lui eh infatti ho finalmente capito che si è seguito il mio viaggio per ottenere un suicum è partito per un'altra regione un giorno oddio che figata ok e qui? metto 0 che è centripugno cos'è questa zona misteriosa? questa è vai vai qua si trova sui leggendari dell'erba oh sono gli starter oh 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 mio dio l'amore della mia vita oh mio dio l'amore della mia vita un'altra volta oh mio dio che zona bellissima si trovano tutti quelli fortissima dai si e poi oh ci siamo anche noi ma no assurdo ma ci sta sta zona alla fine cioè premio per tutte le cose ma moriamo si può procedere in basse andiamo in acqua vediamo facciamoci un bagnese ah no è finita qui poi c'è il tento con il 35 non proseguo no no si arriva eh vabbè noi abbiamo spaccarocci si può vabbè no qui siamo arrivati a ferrugipoli come ti avevo detto qui saranno i pokemon di merda no invece no eh che cazzo dove cazzo stiamo finendo insegna taglio giusto per togliarmi per questo 32 per questo 31 io non sto capendo proprio nulla neanch'io dove siamo è un'esplorazione siamo in una mano scoperta taglio boh insegniamolo a la lana la lana al posto di lacerazione si bisogna capire dove siamo sbucati questo mi ricorda tanto quella volta quando incontra i celebi ciao luis ho una brutta notizia d'arte nick lo so già lo so non felice no non dirmi che vuoi no no professoressa fa come ho deciso di seguire le orme di mio padre ma porca merda non ci piglia a tradimento faccia di merda sta stronza qui intanto ha miltang ehm come lo buttiamo ehm abbiamo 3 per pozione ci non ce la faremo metti coso metti coso non ha una mossolotta alla lana ci che ce l'ha c'è una stramontante un po' casale tramontante se vinciamo sta battaglia proprio non ci credo vai di calciardentro sei serio oddio grambia grambule non è grambule asumarill eh ho visto grambule io vai di gloria e vola uh ma che fai oddio scella anche lui cioè lei ma no no non ci credo non ci credo se la chiudiamo veramente ah c'ha il ma no abbiamo vinto bene questo e con questo si conclude la tua carriera tra l'altro penosa eh ho già un laboratorio ok vieni a farci un salto vabbè e poi finì no continua quanto è lungo sto gioco basta sfide inattese no perdiamo adesso boh io non me l'aspettavo proprio che è stato questo post lega io ero convinto che la lega finisse ma basta ma che cacchio stramontante 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 non ce la facciamo più stramontante e stramontante tra l'altro il senso di avere due rock and roll e un tiranitar poi me lo spieghi Ora, oddio, cos'è quella roccia? Nulla, un bug. L'etere. Eh, mi servirebbe un po' di etere per ris... No, 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 no. Leggendario, leggendario, leggendario. Solosis. Andiamo, chi cazzo se ne è? Via. Ma c'è un cazzo di tunnel final... No. No, no, questo è il finale. C'è scritto finale. Questo qui si cura. Si cura di sicuro, sì, sì. Secondo me ci regala un po' che... Ma merda, non ci cura. Sei la professore, sa più inutile della storia. Ma tu nel finale? Ci sarà qualcosa da... Potesei... Aspetta, facciamo una cosa, va. Abbiamo due realizzanti, lui. No, ma ci si troverà qualche po'. Su Jerome e su... Ibra. Di Maria. Ibra. Iperpozione su Iniesta e su Roma. Ma dove cazzo siamo finiti? Cos'è questo? E' uno degli alieni? Ma chi è quello? Non si trovano Pokémon qui. Non dirmi che quello lì è il programmatore. Come chi è? Che cazzo sta succedendo? Ma questo è un qualunque allenatore, semplicemente. Ma cos'è questo? Electrode. Boh, raga, io... Che cazzo? Doveva essere la parte finale, invece. Ma è che sta durando tipo mezz'ora, secondo me? Ma ne varrà sicuramente... Ma ha un senso, è stato uno del finale. No, vabbè. Il capo del timidro? PS su? Tu sei l'ultimo. Cosa vuoi? Che lo metto sbagliato e mi pento. Dov'è il senso in tutto ciò? Dove un'avventura finisce e ne comincia? Grazie mille per aver giocato alla mia hack. E qui io alzo le mani e dico... Grande Megamission... Ci ha trollati tutti. Ci ha trollati alla grande con sto post Lega. Io ho detto andiamo così a cazzo alla torrenotta. Probabilmente se non l'avessimo fatto tutti ci avreste scritto nei commenti. Andate avanti, eh. E invece a caso ci siamo andati e ci siamo divertiti troppo in sto post Lega. Vi ho trovato di tutto. Grandioso. Tu qui hai proprio risollevato la ROM. Cioè... Sorry I'm speechless. Vabbè. Comunque adesso vi possiamo definitivamente salutare. Se la parte vi è piaciuta lasciate un bel mi piace anche se dura già tipo 40 minuti. Iscrivetevi al canale e io vi saluto. Ciao. Ciao.